Questo non lo possiamo sapere bene né io, perché a me non mi forniscono nemmeno i dati da un anno, né lei, perché se va a bussare alla porta della regione Campania non avrà certo il massimo della trasparenza. Io mi auguro che la magistratura verifichi in Sicilia come altrove se la salute dei cittadini è stata tutelata in maniera adeguata e che non ci sia stata poca chiarezza sui dati delle terapie intensive. Quindi a lei per esempio farebbe piacere se la magistratura buttasse un occhio su come è stata gestita in Campania? Io mi auguro, di cui ho grande stima e fiducia nella magistratura, che sia un occhio attento dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Quindi le indagini sono doverose, la presunzione di innocenza la dobbiamo sempre sottolineare. Sarina, tu che dati sei fatta? Come ne esce?